no 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 ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi leggeremo di nuovo il volantino della lidl ragazzi questa volta delirio una tempesta di articoli vediamo cosa ci proporranno quindi in questo volantino con le uscite comprese fra il 10 ottobre 16 ottobre 2022 ragazzi troppi troppi articoli ce la faremo in un solo video proviamoci ma prima ricordatevi di andare a guardare il video che appena caricato se avete un piccolo laboratorio se vi serve spazio e se avete attrezzatura che lavora col computer vi lascio il link giù nel primo commento è la descrizione adesso iniziamo e allora ragazzi questa volta su questo volantino gli articoli sono davvero tantissimi quindi non perdiamoci in chiacchiere andiamo direttamente a pagina 18 del volantino quindi da lunedì 10 ottobre come primo articolo troveremo l'avvitatore ad impulsi ricaricabile con un massimo di 180 newton metro come coppia avrà un numero di percussioni regolabile da 0 fino a 3600 al minuto è un numero di giri sempre regolabile in proporzione di conseguenza da 0 fino a 2800 al minuto nella parte frontale ci vanno i bit con il codolo esagonale praticamente per capirci questo tipo meglio se acquistate gli inserti siano specifici per gli impulsi perché la differenza tra questo avvitatore quest'altro avvitatore è che questo non ha frizione semplicemente è un sistema che gli permette di martellare durante la rotazione quindi da tanti piccoli colpetti che permettono l'avvitatore di raggiungere un serraggio più elevato rispetto a un avvitatore di questo tipo e anche se la vita si ferma lui continuerà a percutere come l'avvitatore dei gommisti quindi la pistola per smontare i dadi delle ruote verrà venduto senza batteria senza caricabatterica costo di 29 euro e 99 effettivamente è un prodotto molto ambito molto richiesto perché all'interno di un laboratorio ma non solo capita spesso di dover avvitare svitare delle viti che siano strette in modo esagerato oppure che si debbano avvitare richiedendo un elevato sforzo è un avvitatore di questo tipo anche se potrebbe riuscire a farlo comunque è uno sforzo eccessivo questo invece non si affatica e ci permette di lavorare serenamente senza avere nemmeno il rischio di avere contraccolpi al polso addirittura se mi riesce pubblicherò un video che avevo già caricato qualche anno fa su youtube ma non l'ho mai reso pubblico in cui lo confronto con un vecchio tecpo e in questo video faccio vedere che riesco a svitare tranquillamente anche le ruote della macchina questo invece è l'avvitatore che funge anche da trapano quindi ci permette sia di praticare fuori che di abitare delle viti si possono usare sempre questo tipo di inserti oppure si possono utilizzare le punte di trapano che abbiano sia il codolo rotondo oppure il codolo esagonale come questo e questo tipo di punta volendo si potrebbe utilizzare anche con questo tipo di abitatore non nasce per questo scopo però ci permette di farlo anche questo verrà venduto senza batteria e senza carica batteria costo di 29 euro e 99 troveremo all'interno anche un set di inserti e punte di trapano mi sembra che siano solo punte per legno questo a differenza di quest'altro anche una frizione che ci permette di regolare la forza di rotazione del mandrino e quindi in base al materiale più o meno delicato possiamo riuscire a lavorare adeguando la forza al punto al materiale su cui stiamo lavorando avrà 45 newton metro come coppia massima quindi rispetto a queste sono 180 molto molto più limitata ma un funzionamento differente a differenza di questo se stiamo utilizzando questo avvitatore alla massima potenza potremmo avere un contraccolpo al polso e quindi per evitare tutto ciò la frizione torna utile anche in questo scopo tra l'altro mi sembra di vedere una ghiera differente quindi potrebbe essere un modello nuovo quindi potrebbero aver eliminato tutti diciamo i difetti dei modelli precedenti speriamo più in basso sempre in tema trapani e abitatori troviamo la fila punta per punta di trapano costa 22 euro e 99 questo comunque funziona bene io lo utilizzo tuttora vi ho già fatto una recensione su questo prodotto mai permette di inserire la punta nel foro che abbia il diametro corrispondente alla punta che vogliamo affilare ma mi raccomando solo punta per metallo non potete affidare nelle punte per legno neanche le punte per il muro quindi tramite un sistema di pressione eccetera insomma ci permette di rifare il filo alle punte io mi trovo bene riesco a utilizzare tranquillamente le punte che ha filo con questo prodotto io non sono in grado di farlo affilandolo manualmente e quindi con questo ho risolto il problema è sempre in tema di abitatore di impulsi e quindi di grande potenza in questo caso a 12 ore 99 ci saranno 271 è composto da 32 pezzi e l'altro invece da 29 pezzi uno dei 27 composto da bussole inserti grandi e piccole l'altro invece composto solamente da inserti grandi e piccoli e nella parte superiore ci sono degli inserti che abbiano la punta sia da un lato e dall'altro quindi in base alle nostre esigenze possiamo scegliere il tipo di set che ci piace di più in alto nella pagina successiva invece c'è la sega circolare sempre ricaricabile sempre venduta senza batteria e caricabatterie che costava 49 euro sarà scontata dai 5 euro a 44 euro questo avrà un numero di giri a vuoto di 3.800 al minuto avrà la possibilità di regolare l'angolo da zero quindi col taglio perfettamente perfetticolare la superficie fino a 45 gradi la profondità massima di taglio con un angolo a zero gradi sarà di 48 mm invece regolandolo con un angolazione di 45 gradi avremo una profondità di 36 mm in notazione verranno date anche l'adattatore per poter utilizzare l'aspiratore per raccogliere tutti i trucioli e la battuta di profondità per poter regolare il taglio in base al bordo del pezzo che dobbiamo tagliare poi torna anche l'elettro utensile multiuso ricaricabile questo modello completamente nuovo con l'impugnatura più sottile anche questo senza batteria e senza caricabatterie e ci permette tramite un sistema a vibrazione di seguire dei tagli sia al centro di una superficie quindi non dobbiamo partire per sforza dal bordo come si farebbe con una sega circolare classica oppure con un sacchetto alternativo ma questo ci permette di fare dei tagli per esempio per poter realizzare una scatola sul cartongesso dove poter mettere un interruttore eccetera ma ci permette anche di scollare tramite degli accessori appositi di fare dei tagli sulle piastrelle e tanto altro davvero molto comodo il costo sarà 39 euro e 99 quindi non indifferente però ragazzi una volta che comprate questo articolo lo utilizzerete spessissimo io l'utilizzo molto di frequente e sono molto soddisfatto poi a centro pagina abbiamo invece un seghetto elettrico che si trasforma sia se che al gattuccio che seghetto a pendolo quindi seghetto alternativo costerà 49 euro anche questo da batteria e caricabatterie però personalmente con il modello che ho provato non mi sono trovato bene poi nei commenti della recensione invece ho letto che tante persone si stanno trovando bene e lo ritengono un prodotto valido quindi probabilmente non sono rimasto soddisfatto io per questioni miei gusti personali però quando pare funziona bene quindi se vi incuriosisce acquistatelo provatelo e poi vedete che insomma come vi trovate a sinistra di questo stesso articolo ovviamente troviamo anche un set di lame per seghetto alternativo e per sega gattuccio che vanno bene anche per tutti gli altri tipi segheti alternative per le altre serie a gattuccio perché sono praticamente con attacco standard per il seghetto alternativo dovete comprare sempre le lame che abbiano la coda la parte dell'innesto tipo bosch più in basso troviamo anche le batterie batterie e caricabatterie solo che la batteria da 4 per sarà venduta singolarmente invece la batteria 22 per sarà venduta corredata di caricabatterie sono c'è il balancing quindi l'ultimo modello di batterie parkside il costo sarà 34 euro 99 per la batteria da 4 per 24 euro 99 per la batteria completa da 2 ampere andiamo ancora nella pagina successiva e troviamo la pompa compressore ricaricabile questa specie di piccola valigetta che possiedo che questa è stata mi è tornata tante volte utilissima perché ci permette sia di gonfiare le ruote della bici anche della macchina in realtà canottini gommoncini salvagente e tanto altro e ovviamente questo ve lo recensito vi lascio il link nel primo commento nella descrizione ci permette tramite una batteria che aveva posizionata nella parte posteriore di azionare una pompa che ci permette sia di soffiare quindi di avere una grande portata di aria ma con poca potenza oppure il tubo tipo compressore che si utilizza per gonfiare gli pneumatici che è un pochettino più lento e però ha molta più potenza quindi riesce a gonfiare anche gli pneumatici che non siano però troppo sgonfi solitamente non ci si riduce con la ruota completamente a terra quindi se la ruota un po sgonfia si può regolare la pressione ma il manometro controllatelo prima la gommista perché nel mio caso il manometro è perfettamente calibrato quindi corrisponde a quello del gommista però fate attenzione perché non è tarato infatti non lo consigliano proprio per le automobili per questo motivo a destra troviamo invece la torcia led ricaricabile che trovate sempre quando faccio l'introduzione alla mia destra perché l'auto la uso tantissime volte e questa funziona con la batteria x 20 di team inserita nella parte bassa molto comoda ve l'ho già recensita quindi me ne parlo poco vi dico se solo che se la trovate compratela perché davvero molto utile funziona bene andate a guardare però il video per capire bene di cosa si tratta poi abbiamo una novità un prodotto parkside performance in mezzo a tutti questi verdoni troviamo anche un nerone soffiatore turbina ricaricabile 89 euro funziona con due batterie avrà un flusso d'aria da 800 metri cubi l'ora è una velocità del getto di aria il massimo di 250 chilometri orari un numero di gira vuoto regolabile da 0 a 23 mila al minuto e avrà la possibilità tramite un selettore di regolare la velocità di soffiaggio molto comoda per chi ha una casa con un giardino per chi comunque lavora nel giardinaggio ha bisogno di soffiare via foglie sporcizia eccetera non l'ho mai provato quindi non so parlarvi più di tanto di questo prodotto ovviamente però avendone provate altri tipi che avevano delle prestazioni dichiarate molto più basse ragazzi sicuramente se le prestazioni sono rispettate per quanto scritto sulla carta allora sarà una piccola bestiolina questa invece la spazzola ricaricabile per fuga si impugna dalla parte alta la batteria messa immediatamente sotto l'impugnatura e tramite un sistema con delle setole dove dovrebbe pulire le fughe dei giardini ma io non l'ho mai provato non so parlarvene devo essere sincero comunque è adatta per pietra naturale lastre calcestruzzo piastrelle legno legno composito eccetera e comunque verrà proposta in offerta quindi penso che se ne siano vendute poco alla volta precedente perché non ho visto grande interesse per questo articolo in basso sulla sinistra torna anche la pistola termica ricaricabile pure questa la possiede oppure questa recensita la utilizzo tutte le volte che ho bisogno di una pistola termica che non abbia una potenza eccessiva in realtà ne ho altre della parkside altre di altre marche pure una della bosch in base a quello che devo fare ovviamente se ho bisogno di molto calore allora prendo per esempio quella della bosch ma nel 99 per cento dei casi per guaine termorestringenti e per tante altre cose questa della parkside è comodissima si inserisce la batteria ultimamente ho fatto un lavoretto in macchina un altro lavoretto in un magazzino dove non c'era la corrente elettrica ho dovuto fare degli impianti su un prodotto un articolo a batteria e sinceramente con questo mi sono trovato benissimo però se volete sapere come funziona andate a guardare anche il video di questo prodotto che vi lascio giù nel primo commento e nella descrizione poi c'è la fantastica pistola ad aere compressa pistola per verniciare ricaricabile che costerà 44 euro oppure di questa vi lascio il link nel primo commento e nella descrizione sicuramente non è un prodotto professionale ma per imbiancare casa eccetera va benissimo nella pagina successiva sempre come prodotto a batteria c'è la stazione di saldatura ricaricabile pure questa con batteria da 20 volte da inserire sulla parte bassa 19 euro e 99 cosa se ne fa uno vista di una stazione di saldatura batteria ragazzi se ne fa nel caso in cui per esempio come dicevo utilizzato la pistola ricaricabile per utilizzare un articolo che funziona con corrente continua quindi alimentato da batterie ho dovuto fare anche delle saldature ho utilizzato in quel caso il saldatore al gas quindi ho risolto il problema ma chi ha bisogno di fare diversi tipi di lavori con questo tipo di articolo può lavorare serenamente con una lunga autonomia e quindi può riuscire a lavorare tranquillamente anche dove non ha la corrente alternata quindi dove non può attaccare la spina di casa raggiungerà una temperatura massima di bene 480 gradi e in dotazione ci saranno due rocchetti di stagno le punte di ricambio eccetera ma andiamo a fianco c'è un altro articolo molto interessante questa volta sono molto ingolosito da questo articolo perché già avevo comprato la versione a corrente elettrica invece abbiamo la roditrice ricaricabile che serve a tagliare il metallo tipo lamiera eccetera con un sistema molto comodo che praticamente va rosicchiando il metallo e la particolarità rispetto per esempio ad un flex a tanti altri arnesi che possono tagliare il metallo è quella che ci permette di fare un taglio articolato e quindi di eseguire delle forme diverse dai classici tagli dritti solo con il modello che ho provato io già da subito avevo un difetto un filo che fuoriusciva dalla scocca insomma non mi è piaciuto proprio tantissimo ho fatto il reso perché non sono rimasto soddisfatto al cento per cento questa volta voglio riprovarci sperando pure che abbiano cambiato un sistema sulla parte bassa che non mi permetteva di fare delle curve troppo pronunciate comunque raggio minimo di taglio sarà di 40 mm della larghezza del taglio 5 mm cioè il materiale che verrà sportato sarà di 5 mm l'altezza della corsa sarà di 7 mm e avrà una capacità di taglio massima nell'alluminio di 2 mm e mezzo nell'acciaio di 1 mm e 6 e poi ovviamente in base al tipo di metallo lo spessore va diminuendo 1 e 2 oppure 0 8 mm e costerà ben 79 euro la cifra non è indifferente però per chi ne ha bisogno comunque è un prodotto che può risolvere tantissimi problemi poi nella parte centrale troviamo invece l'attrezzo multifunzione ricaricabile non è nient'altro che un abitatore transformers e quindi ci dà la possibilità di utilizzare alcuni accessori che possono trasformarlo in attrezzo multifunzione nel senso di attrezzo che vibra come quello che vi ho fatto vedere poco fa che riesce quindi a tagliare scollare raschiare eccetera si può utilizzare come trapano oppure come abitatore si può utilizzare anche come gattuccio quindi se avete l'intenzione di utilizzarlo molto raramente ma vi servono comunque tutte queste funzioni con 69 euro sempre senza batteria e senza caricabatterie potete avere un attrezzo che facciamo un po tutto solitamente si dice che chi fa troppo e fa tutto male in realtà questo di qua non fa tutto male perché ho avuto modo di sfruttarlo a lungo ho dovuto smontare diversi mobili fare delle modifiche per far passare dei tubi idraulici sotto eccetera quindi l'ho utilizzato anche con seghe a tazza insomma ragazzi ha funzionato bene però non possiamo pretendere di lavorarci come se fossero utensile professionale ma tutto quello che io gli ho chiesto lo ha fatto senza problemi e io gli operai che erano in casa si sono incuriositi e mi sono complimentati perché alla fine è riuscito a funzionare oltre le aspettative e in dotazione troveremo anche alcune punte di trapano e alcuni bit inserti per poter abitare svitare alcune lame per la sega gattuccio alcuni accessori per la funzione con la vibrazione poi in basso a 49 euro sempre senza batteria e caricabatterie ci sarà la pistola spara punti ricaricabile questa ve l'ho già recensita quindi vi lascio direttamente il link e permette di sparare dei chiodi e delle graffe che abbiano una lunghezza massima di 32 mm funziona bene anche la possibilità di regolare la coppia con un selettore sulla parte superiore e quindi se avete intenzione di incollare dei pezzi fra di loro con questo potrete risolvere e farlo comodamente senza capi ma ritorna pure la pistola per colla a caldo ricaricabile 19 euro e 99 pure questa recensita due volte due versioni differenti la prima versione non mi era piaciuta perché aveva il tasto troppo duro non mi permetteva di far erogare la colla quindi praticamente inutilizzabile la seconda versione che ho tuttora qua con me che uso tutte le volte col bisogno della pistola per colla a caldo funziona benissimo quindi super soddisfatto la consiglio pure in questo caso se dovete fare diversi lavori soprattutto distanti da dove avete la presa elettrica ancora nella pagina successiva anche se il periodo non è proprio ideale il generatore di aria calda a corrente elettrica pure questo scontato di 5 euro da 29 euro e 99 24 euro e 99 e assorbe tantissimo questo assorbe 2000 watt quindi due kilowatt considerata che effettivamente non va utilizzato in casa per riscaldarsi perché comunque il consumo è elevato anche se è regolabile 1100 watt 2000 watt però effettivamente il consumo si va a sommare diciamo che è più utilizzato per cantieri o situazioni particolari nelle quali è necessario avere un calore momentaneo per esempio far asciugare alcuni tipi di vernice insomma tutte quelle situazioni dove è necessario soffiare aria calda e non abbiamo alternativa quindi dobbiamo utilizzare questo poi ci sarà anche un carrello per trasportare degli oggetti carrello da trasporto universale al costo di 29 euro e 99 ci sarà un impugnatura pieghevole che sarà possibile nascondere anche nella parte bassa e che ci permette di trasportare un peso massimo di 250 kg come ho detto anche nel volantino precedente perché l'avevano già proposto recentemente l'unico neo di questo carrellino sono le ruote in plastica e se si trasporta qualcosa per esempio su un parquet oppure un altro materiale che si possa rovinare con la plastica ovviamente potrebbero rimanere segni avrà 37 cm per 70 cm come superficie di appoggio e lo stesso ripiano sarà rivestito di un materiale antiscivolo poi ci saranno anche dei morsetti a 12 euro e 99 con diverse misure questi c'è poco da spiegare sia a vita la parte bassa ci permette di stringere poter incollare mantenere fermo eccetera eccetera poi degli accessori quindi 7 di moschettoni grilli a vite staff eccetera che permettono in questo caso di utilizzare delle funi oppure come per le squadre di unire dei pezzi non devo spiegarvi nulla costano 3 euro e 49 le squadre quindi le staffe angolari e 7 euro 99 7 di moschettoni oppure grilli a vite sulla destra invece abbigliamento quindi della magliettina 6 euro e 99 dei pantaloni da lavoro a corso origine ore 99 poi mutande calze e cinture marchiate parkside queste le devo comprare mia moglie prenderà in giro a vita ma io le voglio e costeranno 6 euro e 99 2 49 5 euro e 49 ancora a fianco te lo copriauto con diverse misure a 6 ora 99 è un sistema bluetooth che ci permette di dialogare via voce utilizzando il sistema bluetooth del nostro telefonino all'interno dell'automobile scontato 17 euro 99 a 14 euro e 99 girando pagina quindi giovedì 3 ottobre ci sarà anche una piccola aspirapolvere della carcer a 59 euro può andare bene anche all'interno del laboratorio anche se nelle immagini raffigurano l'utilizzo diciamo in ambito domestico ma va bene anche come aspirapolvere oppure come soffiatore invertendo l'innesto del tubo dalla parte frontale alla parte posteriore e non parlavo così velocemente non mi ricordo quanto tempo dai calmiamoci ragazzi allora andate a vedere pure come vi dicevo il link di questo articolo che ho pubblicato se avete un piccolo laboratorio se utilizzate macchine per le quali necessario il computer e quindi possibilmente può farvi comodo ma adesso vi saluto dopo avere visto questo volantino molto ricco vi invito ad andare presto alla lidl altrimenti non troverete nulla commentate sotto al video dicendo io non ho trovato nulla non sono arrivati i prodotti arrivano alle 8 alle 8 e 10 sono già finiti tranne quelli che hanno avuto un rincaro eccessivo rimangono un po di più detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace qua giù cliccando sul tastino con il pollicione all'insù cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo essere iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto